Ed eccoci all'ultimo aggiornamento di oggi con Moversi in Toscana, ben trovati da Mauro Ciutini. Codena 11, la Firenze-Pisa, tra la barriera di Firenze-Ovest e Prato-Est, siamo in direzione di Pisa. Codi a tratti in A1, tra Fabro e Valdarno, in direzione di Firenze, rallentamenti anche sulla strada di grande comunicazione, sulla FIPILI, allo svincolo La Strastigna, provenendo da Firenze. E veniamo ai lavori in città, a Via del Romito, oggi e domani, sono in programma interventi su alcuni tombini pericolanti della rete idrica, la strada è chiusa da Piazza Tanucci a Via Lorenzoni. In chiusura il tempo previsto da Lamma in Toscana per domani mattina, molto nuvoloso, deboli piogge sparse sulle zone centro-settentrionali della Regione. È tutto, Moversi in Toscana con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buona serata. Grazie a tutti.